E' consuetudine salutare l'arrivo del nuovo anno con petardi e fuochi d'artificio. Nella notte di San Silvestro, ormai alle porte, a Cava dei Tirreni occorrerà però abbandonare questa tradizione. Infatti, un'ordinanza firmata lo scorso sabato dal primo cittadino Vincenzo Servalli, vieta dal 31 dicembre 2016 al 9 gennaio 2017 lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l'accensione di botti e artifici pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo. A determinare questo provvedimento, la consapevolezza che tali condotte minano in questi giorni di festa la tranquillità e la sicurezza dei cittadini, non solo da sottovalutare neppure i rischi per l'incolumità di tutti coloro, tra cui tanti minori, che imprudentemente esplodono petardi. Per un'ordinanza di questo genere, nei giorni scorsi si erano battute anche le associazioni ambientaliste ed animaliste che operano sul territorio metteriano. In particolar modo, Ampano e Vengo Anch'io. Infatti, il fragore dei botti non solo spaventa gli amici a quattro zampe, ma compromette il loro senso dell'orientamento, aumentando dunque il pericolo che possano smarrirsi, ferirsi o addirittura perdere la vita. Il compito di vigilare sull'osservanza del provvedimento sarà affidato alle forze dell'ordine. Per i trasgressori è previsto una sanzione che può variare dai 25 ai 500 euro. Il sindaco Servalli, tuttavia, è consapevole che il ricorso agli strumenti coercitivi non sarà sufficiente a porre rimedio in maniera definitiva al fenomeno. Per questo si appella soprattutto alla sensibilità individuale e alla responsabilità collettiva dei cittadini.